Un'opera da 20 milioni di euro, di cui un milione e mezzo di euro stanziato dalla regione Emilia-Romagna e i rimanenti dal Ministero dell'Ambiente che ha permesso di portare sulla renile del litorale Emiliano-Romagnolo, da Ferrara a Rimini, un milione e duecento mila metri cubi di sabbia di ottima qualità e il maxi ripascimento che dà nuova vita alle spiagge della costa. Il cantiere si è completato in 82 giorni, quindi si è completato in tempi record, un intervento che ha riportato sabbia sulle nostre spiagge in 8 comuni, 10 km di costa, soggetta a forte erosione. Stiamo parlando di un cantiere che è stato realizzato in tempi record perché aveva come limite temporale la stagione turistica, parliamo di 120 addetti H24, quindi 24 ore su 24 e si è portato a riva oltre un milione e duecento mila metri cubi di sabbia che hanno aumentato la profondità delle spiagge di una media di circa 40 metri. Maxi cantiere da 20 milioni di euro, di cui un milione e mezzo finanziati con risorse del bilancio regionale e la restante parte dal governo nazionale. Un intervento molto atteso dal territorio soprattutto dopo gli eventi del 5 febbraio 2015, quelle importanti mareggiate che hanno creato danni in tutto il litorale e anche nell'entroterra e rappresenta la prima grande infrastruttura verde del paese perché unisce insieme due grossi obiettivi, il contrasto all'erosione costiera e unito a un altro obiettivo che è la crescita economica della nostra costa e dell'intero comparto turistico.